Tra poco Sul canale 17 di Pano TV l'informazione locale Un quartiere dove non si capa più e non ti puoi neanche facciare della finestra e dire ragazzi andate via perché ti fanno i display e ti scrivono con le bombolette nei muri Ristoratore aggredito da un gruppo di minoregni a Lido di Fano i residenti stanchi di minacce e atti vandalici tornano a chiedere più controlli delle forze dell'ordine L'Enel decide di interrompere l'energia elettrica in un giorno di mercato e scoppia la polemica 4 reti in 13 minuti i ragazzi di Mister Alessandrini battono 4 a 1 San Nicolò Un cordiale benvenuto dalla redazione di Occhio alla Notizia in apertura alla cronaca è stato aggredito sabato notte Filippo Ravagli titolare di un noto ristorante a Lido di Fano dopo una ricostruzione dei fatti sentiremo che cosa ne pensano i residenti del quartiere lo hanno insultato, minacciato, spintonato e poi colpito con un pugno in faccia è accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsi ai danni del titolare 45enne del ristorante Taverna dei Pescatori a Lido di Fano Filippo Ravagli, conosciuto da molti come Felix intorno al 1.30 è stato aggredito e gettato a terra da 6 o 7 minorenni probabilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche o superfacenti dopo la chiusura del locale il titolare era uscito per buttare la spazzatura nell'isola ecologica che si trova a fianco del porto canale in piazza dei Calafati quando ad un certo punto ha notato dei giovani in via dello squero erano gli stessi ragazzi che già durante la serata si erano fermati più volte davanti al locale e addirittura erano entrati per chiedere di aprire una bottiglia di vino che avevano portato con sé secondo altre testimonianze poi il gruppetto si aggirava negli stessi punti da mercoledì scorso Ravagli stanco di quelle presenze si è rivolto alla banda chiedendo loro di non alzare la voce tutt'altro che intimiditi dal suo richiamo si sono avvicinati all'uomo e hanno iniziato ad insultarlo lo scontro forse avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori se non fosse stato per l'intervento di un cameriere dello stesso ristorante che accortosi di quanto stava accadendo è andato in suo soccorso ed ha allertato le forze dell'ordine in poco tempo sono arrivate due pattuglie dei carabinieri che hanno identificato tutti i componenti Ravagli che probabilmente non sporgerà denuncia si è poi recato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Fano per farsi medicare la guancia sinistra gonfiatasi dopo il colpo a intervenire sull'accaduto nella giornata di ieri sono stati diversi politici locali il sindaco di Fano Massimo Seri invece non potendo essere presente ha espresso con un messaggio vicinanza e solidarietà al ristoratore il primo cittadino ha voluto condannare fortemente l'episodio di violenza auspicando tolleranza zero nei confronti di coloro che calpestano la dignità umana la sicurezza di cittadini, turisti e di chi lavora a Lido come in tutta la città va salva guardata ha scritto Seri in una nota e proprio per questo motivo nei giorni scorsi ha esteso la richiesta di una maggior presenza delle forze dell'ordine in un'ottica di prevenzione una vicenda questa che non ha risparmiato le polemiche dei residenti del quartiere preoccupati e stanchi di subire intimidazioni e continui atti vandalici ha saputo dell'aggressione? si ho saputo ha sentito qualcosa? no me l'ha raccontato il proprietario ah ecco lei era in casa in quel momento? dormivo, era a letto quindi non ha sentito nessun rumore? no no ma come la trova qua la situazione? ci sono dei problemi sabato notte? si si ci sono dei problemi specialmente il venerdì e il sabato ci sono dei problemi vede le pattuglie girare? ci sono dei controlli? no mai viste specialmente d'inverno sarebbero necessari? eh si ormai di notte sente questi rumori? si si di notte si sente voglia mettono anche paura una volta ho chiamato i carabinieri perché da uno addosso due ragazzi i residenti della zona che cosa ne pensano? ho sentito i suoi vicini di casa pensano cose come me però cosa li fai? cosa li fai? non ce n'è mai nessuno non vigile mica si vede niente specialmente là su in cima dove ci sono le panchine quei signori che abitano là su si lamentano sempre telefonano sempre chiamano ma un po' non si possono affacciare perché perché c'è le bande tutti questi ragazzi ma giovani non è che ragazzi grandi ragazzi 15-16 anni quindi dopo succede quello che succede quello che è successo a Filippo io sinceramente dormiva non ho sentito niente però però si sente la confusione diciamo si accampa più cioè qui una volta una volta questa era una via che te lasciavi le macchine aperte lasciavi le chiavi nelle porte adesso scherzi rubano rubano gli stendini rubano gli stendini devono legare gli stendini nelle grondaie con le catene quelle delle biciclette a chiedere maggiori controlli a sollecitare l'installazione delle telecamere è stato anche Tiziano Pettinelli direttore di Confesercenti Fano Pettinelli sottolinea che un operatore dovrebbe poter lavorare in tranquillità e non con la paura di rischiare ogni giorno e senza motivo la propria incolumità per questo dice è necessario potenziare la sicurezza in particolare nelle zone più a rischio proprio come al Lido di Fano molto frequentato di notte soprattutto durante l'estate il direttore sostiene che comune forze dell'ordine debbano lavorare in maniera condivisa su questi obiettivi e sempre in merito a questa vicenda abbiamo chiesto il parere di una psicologa sentiamo credo che in questa situazione possa essere facile etichettare quindi già il fatto che si possa parlare di baby gang è già un bel mark che si dà a questo tipo di gruppo di ragazzi è vero come ci si può immaginare che nella fase dell'adolescenza il gruppo è qualcosa di molto importante per cui i ragazzi si sentono nell'insieme quindi nel gruppo più forti questo sicuramente c'è da qui andare a parlare di baby gang mi sento di stare un pochino più leggera dall'altro lato credo che un episodio come questo sicuramente è un episodio che punta l'accento su qualcosa di importante e di serio vada comunque considerato come tale quindi come espressione di un bisogno come espressione di un malessere e come comunità prima di tutto proprio noi che stiamo qui e che da ascoltatori abbiamo sentito questa notizia possiamo chiederci e dobbiamo più che possiamo chiederci dobbiamo chiederci che cosa c'è dietro qual è il malessere qual è il bisogno perché arrivare un gruppo di ragazzi che arrivano a fare un atto del genere significa che c'è qualcosa dietro quindi non mi sento di etichettare ma mi sento di andare al di là del fatto in sé per sé comunque un fatto da tenere in considerazione quindi grave e di andare a vedere cosa c'è dietro questo quindi come monito per per noi che ascoltiamo come comunità per anche per i genitori comunque di questi di questi ragazzi chiediamoci che cosa c'è che cosa ci sta dietro è un incidente autonomo è accaduto oggi pomeriggio sulle Siligate in direzione cattolica un ciclista sui 50 anni italiano ma residente in Austria era in sella la sua bicicletta quando per cause ancora da stabilire ha perso il controllo del veicolo finendo rovinosamente a terra l'uomo che ha riportato gravi danni ad un orecchio è stato trasportato dall'eliambulanza al torretto di Ancona sul posto anche la polizia municipale di Pesaro e adesso ci spostiamo nel centro storico di Fano dove l'Enel ha deciso di interrompere la corrente elettrica per eseguire dei lavori fin qui nulla da ridire ma alcuni commercianti hanno deciso di protestare platealmente perché il giorno scelto per eseguire questi lavori è un giorno di mercato e quindi per gli esercenti una mattinata importante dove si fanno affari questa mattina alle 13.40 c'è arrivata questa comunicazione da parte di Enel ce l'ha portato un operaio dicendo che l'energia elettrica verrà interrotta per effettuare i lavori leggo testualmente sui nostri impianti quando dopo domani quindi tra meno di 48 ore dalle 8.30 alle 14.30 tutti sanno che a Fano c'è il mercato e quindi verrà interrotto questo servizio che di fatto costringerà tanti di noi a chiudere ecco questa è un po' la sintesi della situazione che ha poi tante gravità dietro a seconda dei casi ci sono appunto dei problemi tecnici anche per quanto riguarda i frigoriferi beh i problemi tecnici sono tanti alle mie spalle c'è la gelateria che ha incaricato me di portare anche le sue problematiche che ha ordinato domani avrebbe il giorno di chiusura ha ordinato decine e decini di latte di panna ha iniziato una produzione e questa è tutta roba da buttare via perché è roba fresca freschissima noi come tanti altri parlo di caffè del teatro parlo di darderi parlo della pideneria parlo del barmeri qui c'è la roba da togliere di frigo c'è una mattina che è delle poche soprattutto di questi tempi in cui si lavora molto bene con questo tempo dobbiamo tenere chiusi ma meno di 48 ore prima c'è stata segnalata questa cosa ed è una cosa un po' assurda penso di rappresentare un po' il pensiero di tutti quanti perché un mercoledì mattina qua dovremmo tenere chiusi tutti avete provato a contattare qualcuno? sì Elisabetta del caffè del teatro ha contattato questo numero verde ci ha risposto una centralinista di Bologna ha detto che dobbiamo cercare di essere più fortunati a beccare Ancona ma potrebbe rispondere Milano, Firenze, Catania potrebbe rispondere chiunque hanno detto che loro per questi lavori ottengono i permessi non so da parte di chi 45 giorni prima e che però per legge lo devono comunicare agli esercenti 48 ore prima ma io non credo che la legge obblighi di comunicarlo da 48 a 0 ore prima perché se vogliamo essere formali c'è arrivato meno di 48 ore prima credo che la legge dica almeno entro 48 ore prima ovviamente siamo usciti sotto le 48 ore probabilmente perché siamo in Italia anche lei ha il negozio locale proprio in piazza Andracossa per cui nel centro nel cuore del mercato sì e ci provoca un grosso disagio perché appunto mercoledì e sabato in questo momento di crisi sono gli unici momenti in cui si lavora un pochettino di più e ci permettono di respirare togliendoci uno di questi giorni ci provoca un forte disagio non penso solo a me ma a tutti quanti gli esercenti e ambulanti che lavorano in questi giorni molti esercenti ancora non ne sono venuti a conoscenza anche perché le pescherie aprono domani hanno il cartello attaccato fuori e non si riescono neanche a organizzare per il mercoledì quindi oltretutto chiami a Enel e casca la linea quindi non ti danno spiegazioni non si sa come comportarsi insomma io proverò a richiedere dei danni ma non so se si riuscirà a risolvere qualcosa sono in arrivo contributi a fondo perduto alle imprese turistiche in particolare balneari danneggiate dal maltempo di febbraio e marzo scorsi la giunta regionale ha approvato i criteri per la concessione dei contributi attraverso uno specifico bando le risorse sono suddivise tra strutture ricettive alberghiere il 30% campeggi e villaggi turistici il 10 stabilimenti balneari attività di somministrazione di alimenti e bevande il 60% gli interventi ammessi devono fare riferimento a quelli riportati nella scheda di segnalazione dei danni subiti inviata al comune competente per territorio lo stanziamento complessivo della regione di circa 750 mila euro cambiamo argomento e torniamo a parlare dell'incendio sul San Bartolo dove si fa sempre più largo l'ipotesi dell'origine dolosa è stato spento grazie all'intervento di due aerei canadere l'incendio boschivo di probabile origine dolosa scoppiato venerdì scorso nel parco naturale regionale del monte San Bartolo a Pesaro le fiamme che secondo le prime indagini sarebbero partite da due aree distinte si sono sviluppate a nord della località di Castel di Mezzo e favorite dalla forte pendenza e dalla densità della vegetazione poco prima delle 13 era tutto sotto controllo ma gli agenti e volontari sono rimasti sul posto fino alle ore 18 per essere sicuri che il rogo si fosse spento definitivamente come afferma il comandante provinciale del corpo forestale dello Stato Maurizio Cattoi per quanto riguarda gli incendi questo non è nemmeno un periodo di emergenze pensare che il giorno dopo l'evento ha piovuto in modo abbondante ha detto a dimostrazione del fatto che non siamo ancora nel clima estivo e che quindi la vegetazione è ancora verde il quadro relativo a questo specifico evento ed è all'esame di noi investigatori è capire se visto che è stata sicuramente la mano dell'uomo a di nescare l'incendio è stata di capire se c'è un obiettivo c'è una volontà specifica di danneggiamento dell'ambiente o di interessi particolari sul posto oppure non sia invece di caratteristiche diciamo più colpose persone che possono avere qualche interesse particolare nel danneggiare l'ambiente le operazioni di spegnimento proseguite per l'intera giornata di venerdì sono state piuttosto complesse a causa dell'inaccessibilità dell'aria per il crollo di un tratto di strada per questo vigili del fuoco e del corpo forestale hanno chiesto l'intervento tempestivo di due canader della protezione civile con sede a Roma arrivati sul posto attorno alle 11 inoltre sono intervenuti anche i volontari del gruppo comunale di Pesaro ma l'attività è stata monitorata e controllata anche a mare da due motovedette della capitaneria di Porto avete effettuato un altro sopralluogo oggi? attualmente no perché le attività stanno proseguendo in altre direzioni comunque il problema è legato soprattutto alla difficoltà di raggiungere la zona in quanto l'unica possibilità di accesso diretto è un'area in frana attiva per cui a seguito delle precipitazioni abbondanti di sabato scorso non è stato opportuno raggiungere la zona per non mettere a repentaglio la sicurezza degli operatori adesso in queste giornate dove si sta consolidando un pochino il terreno tenteremo di accedere all'area per fare una puntuale esplorazione dell'area e riuscire a identificare eventuali altri elementi utili alla proseguire dell'indagine i vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti questa mattina intorno alle 11 nel comune di Petriano dove un ricercatore di funghi un ottantenne con problemi di udito si era smarrito a lanciare l'allarme un amico dell'anziano con il quale si era inoltrato nella boscaglia ma dopo sole due ore di ricerca i pompieri lo hanno ritrovato solo tanta paura per l'ottantenne che ne è uscito indenne da questa disavventura nella parrocchia santa famiglia fanno due questa sera alle ore 21 è in programma un momento di raccoglimento e preghiera per la tragedia avvenuta nel canale di Sicilia nel naufragio avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi hanno perso la vita tra le 700 e le 900 persone di cui circa 200 donne e 50 bambini 24 invece il numero dei cadaveri recuperati e trasportati a Malta il sindaco di Fano Massimo Seri ha incontrato nei giorni scorsi il direttore regionale dell'agenzia De Maniale l'obiettivo è stato quello di riaprire la trattativa per l'ex caserma Paolini dove è stato eseguito un nuovo sopralluogo l'amministrazione comunale sta verificando infatti se sia possibile recuperare l'utilizzo degli edifici che si affacciano su Via Palazzi per creare una nuova caserma per l'arma dei carabinieri il progetto verrà esaminato partendo da vecchie ipotesi di lavoro effettuate dalla provincia e dall'ex giunta Guzzi l'incontro con la dirigenza dell'ente è stato anche un'occasione per confrontarsi sull'area del vecchio aeroporto per la quale si attende il decreto che assegnerà in via definitiva la superficie e adesso passiamo allo sport all'Alma Juventus Fano che ieri ha vinto a Teramo battendo il San Nicolò per 4 a 1 la telecronaca di Sergio Catalani scendono in campo le squadre di San Nicolò Teramo e Alma Juventus Fano di nuovo buon pomeriggio da Sergio Catalani dello stadio Bonolis di Teramo piano località piano d'accio Alma Juventus Fano in maglia granata e San Nicolò Teramo di una maglia avveniristica di colore verde Sassaroli intanto verso Lunardini che aggancia c'è Sivilla Sivilla il tiro Murato Sivilla una palla gol importante per il Fano poi c'è Gucci Borrelli il Fano insiste Borrelli mette nel mezzo e in realtà è un tiro prova ad andare via Santoni attenzione il San Nicolò pericoloso c'è Iaboni il tiro la palla buona questa volta se l'ha avuta il San Nicolò Sivilla ancora Clemente bene Clemente da solo Clemente al limite Clemente prova la conclusione Clemente la palla che fa la barba al palo Mozzoni penetra e poi serve Chiacchiarelli ottimo iniziativa del numero 3 locale Chiacchiarelli il tiro Ginestra con i pugni occasione per il San Nicolò ancora con Chiacchiarelli poi Iaboni il tiro Ginestra pare insiste ancora il San Nicolò pericolosissimo e poi c'è il gol attenzione il gol il gol del San Nicolò secondo posto comunque blindato la Samb perde 2-0 a Matelica intanto il rosso a Bartolini per una gomitata attenzione intanto c'è Gucci attenzione in penale di rigore c'è Favo che mette nel mezzo Gucci 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 Nicolò Gucci 1-1 il pareggio si smarca Gucci in posizione di alla destra Gucci mette nel mezzo esce Rupinetti attenzione il tiro e c'è il gol dell'alma e c'è il gol dell'alma e lo russo e lo russo Pasquale lo russo Gucci intanto Clemente verso Sivilla è libero dalla parte opposta riceve intanto Sartori la palla è buona Matteo Sartori il tiro di Sartori la palla sul palo il gol Matteo Sartori palo gol Sartori è solo c'è Sivilla c'è Sivilla Sartori mette a sedere il portiere attenzione Sartori il tiro e il gol e il gol ancora di Sartori Matteo Sartori è solo vediamo Sivilla con la palla che arriva a Lupinetti l'ennesimo gol in zona Cesarini della Mazzanatese a questo punto regala la vittoria del campionato ai Biancorossi ma oggi abbiamo visto una grande alma che ha annichilito letteralmente nel secondo tempo i resti del povero San Nicolò la partita la trasmetteremo integralmente subito dopo il nostro telegiornale ma questa sera abbiamo nei nostri studi Sergio Catalani buonasera Sergio dunque ci sono episodi da Moviola oppure domenica scorsa hai filato tutto liscio grazie Simona sì il Fano ieri ha vinto per 4-1 a Teramo contro il San Nicolò una bella vittoria dopo lo svantaggio iniziale abbiamo sì qualche episodio tra l'altro un paio poco chiari li andiamo a vedere alla Moviola il primo gol con Mozzoni il terzo sinistro che apre sulla sinistra il tiro di Chiacchierelli la respinta di Ginestra ancora Chiacchierelli che va alla conclusione libera la difesa granata e poi c'è il tiro dalla distanza di Stivaletta e la correzione di Bartolini ex di turno in posizione regolarissima quindi gol regolare Bartolini segna ma non esulta quindi questo è un particolare che ci ha colpito e viene abbracciato dai compagni ma l'ex Fano capitano di tante battaglie in Granata non esulta per rispetto ai suoi ex tifosi andiamo avanti con le immagini c'è il al ventunesimo del secondo tempo c'è questo braccio questo gomito alzato sempre di Bartolini su torta il rosso diretto del direttore di Gale il signor Parrella di Battipaglia anche qui le immagini sono poco chiare si vede un gomito del attaccante ex Fano e Perugia che colpisce torta che stramazza a terra chiaramente non ce la sentiamo di dare giudizi definitivi Bartolini esce in maniera tranquilla e ecco arriviamo l'episodio con il gomito alzato e il rosso diretto di Parrella di Battipaglia che ci sembra molto convinto nell'occasione e l'allontanamento dell'attaccante di Forlimpopoli scorriamo con le immagini se questo episodio altro episodio dubbio con Clemente che va giù colpito duro da Micolucci il centrale difensivo del San Nicolò Clemente va a terra con la palla che non era comunque a distanza di gioco vedete Clemente che stramazza è colpito alla testa anche qui immagini vedete qua è il momento che Micolucci con la palla che è in aria e quindi non è nemmeno a distanza di gioco Micolucci usiamo il condizionale colpirebbe anche qui resta da capire se volontariamente o meno Clemente che naturalmente con il Fano in svantaggio non ha nessun interesse a stramazzare la terra e perdere del tempo quindi anche qui è una decisione che sarebbe da rivedere ma alquanto dubbia ultimo episodio il gol il quarto gol del Fano di Sartori Sivilla è in posizione regolare e poi non partecipa all'azione quindi Sartori è in posizione regolare si invola super a Lupinetti che poi in qualche modo lo anticipa Sartori però è caparbio e mette a segno il quarto gol quindi doppietta personale per lui quinto gol per Sartori e Franca Vittoria del Fano che quindi malamaldeggia anche a San Nicolò peccato che la maceratese con un gol nel finale al 92esimo di D'Antoni e con Tommaso Marold contrariamente a quanto aveva detto Magrini alla vigilia messo in campo soltanto negli ultimi dieci minuti batte la recanatese e a questo punto va a più sei dall'Alma Juventus Fano domenica prossima c'è il derby Fano Vispesor una partita che naturalmente non ha bisogno di presentazioni e la maceratese andrà a San Benedetto campo sempre caldo e ostico i giochi non sono ancora fatti a te Simona grazie Sergio per l'edizione di questo telegiornale è tutto però prima di salutarvi vi ricordiamo che da domani la rassegna stampa delle 7.30 andrà in onda in replica fino alle 8.30 ogni quarto d'ora grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata grazie per la vostra